Bentornati in un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride, video dedicato alla lettura della patch del 15 di agosto. Abbiamo le skill del nuovo personaggio, tale Blades, che ci andiamo direttamente a leggere in gioco già tradotte in italiano. Blades, il nuovo personaggio, fa parte della fazione Parlamento della Luce Divina. Blades è un personaggio di tipo supporto, per cui ci andiamo a leggere subito le sue abilità. La sua A1 infligge danni pari al 20% degli HP massimi di Blades a un suo nemico e ridugge il suo contattore di turno di un 10%. A2 aumenta il contattore di turno di tutti gli alleati di un 10% e garantisce loro risoluzione di secondo livello per due turni. Successivamente, Blades garantisce spina di grano all'alleato con l'attacco iniziale più elevato per due turni. Il recupero di questa abilità non può essere influenzato o aggiornato. Per ogni stanza di danno diretto inflitto dall'alleato con spina di grano, Blades infligge danno per un 6% di HP massimi di Blades con un 30% di tasso decisivo extra allo stesso bersaglio e può essere attivato fino al massimo di 5 volte ogni volta che viene garantita spina di grano. Terza abilità Infligge danno pari al 15% degli HP massimi di Blades a tutti i nemici, con un 35% di probabilità di infliggere Stordimento per un turno. Se Blades non riesce a infliggere Stordimento, aggiorna la durata di tutti i debuff attributo sul bersaglio. Allo stesso tempo, se Blades infligge nuovamente Stordimento al bersaglio, Stordimento non può essere bloccato finché non viene inflitto con successo. Passiva All'inizio dei turni di Blades ottiene un livello di Petalo. Quando Petalo ci accumula fino a 4 livelli, li rimuove tutti e garantisce protezione dell'opulenza all'alleato con l'attacco iniziale più elevato per due turni dell'alleato. Considerato come protezione alleata Riduce il danno subito dell'alleato con protezione alleata, garantita da Blades di un 24%, Allo stesso tempo, dopo che il danno subito dell'alleato è stato ridotto, il 70% di esso verrà condiviso da Blades. Quando Blades garantisce la protezione dell'opulenza, purifica tutti gli effetti di controllo da sé e dall'alleato e garantisce a se stessa e all'alleato uno scudo pari a un 60% degli HP massimi di Blades per due turni. Questo scudo non può essere rimosso o rubato. Ok, quindi fondamentalmente è un supporto come anche lo definisce il gioco. Andiamo un attimino a leggere i suoi esclusivi. Esclusivo 1 La danza dell'opulenza garantisce inoltre a tutti gli alleati velocità aumentata di secondo livello per due turni e riduce il recupero di un'abilità cassuale di un turno per l'alleato a cui è stata garantita la spina di grano. Blades ottiene 3 accumuli di petalo all'inizio di ogni ondata. Durante questo periodo Blades ottiene un accumulo di petalo ogni volta che applica uno stack di effetti di controllo. Esclusivo 2 All'inizio di ogni ondata aumenta il proprio contatore di turno del 30% e garantisce danno decisivo aumentato a tutti gli alleati per due turni. Bellino! Esclusivo 3 Quando lancia Fragranza del Grano garantisce attacco aumentato di secondo livello a tutti gli alleati per due turni. All'inizio di ogni ondata Blades ottiene 5 livelli di vegetare. Quando un alleato con spina di grano infligge danno diretto lanciando abilità proattivamente Blades ottiene un livello di vegetare. Quando vengono accumulati fino ai 10 livelli di vegetare li rimuove tutti e lancia Fragranza del Grano per inseguire e attaccare una volta. Blades può ottenere nuovamente vegetare dopo aver lanciato Fragranza del Grano proattivamente. Ok, vabbè è un personaggio principalmente da supporto. Non mi sembra sulla carta questo grandissimo personaggio che serve a tutti i costi. Ma voto 6 e mezzo, non di più onestamente. Non mi sembra così fondamentale o importante da avere ad ogni costo. Continuiamo a leggere la patch note. Allora, ci viene ricordato il banner di questo weekend con i desideri miracolosi. Poi abbiamo un evento dal 15 di agosto fino al 29 agosto che è già presente in gioco e lo andiamo a vedere tra poco. Il 19 agosto inizia un nuovo evento che durerà fino al 26. Vieni un attimino se è un evento che riguarderà sempre la possibilità di acquistare un limited o magari le bestie spirituali. È stato aggiunto un pulsante nelle terre spezzate. Andiamo a vederlo poi successivamente questo pulsantino qui. È stata aggiornata l'interfaccia di cambio difficoltà nella mappa nelle fasi della campagna e nient'altro. Per cui andiamo a vedere prima nelle terre spezzate il pulsantino nuovo che è stato aggiunto e il pulsantino nuovo altro non è che questo qui. Potenziare 10 livelli oppure si potenzia direttamente fino al livello massimo in base sempre ai diamanti che abbiamo a disposizione. Mentre per quanto riguarda l'altro evento è il viaggio avventuroso. Viaggio che si suddivide in 4 percorsi distinti e se completeremo il viaggio avremo come ricompense finale Adkins in mercato, Jenny o Indra in base al viaggio che andremo a scegliere. Oltre al leggendario avremo anche altre ricompense tra cui un altro leggendario e una benedizione mitica. Leggendario e benedizione che variano in base al viaggio che andremo a scegliere e le ricompense ve le faccio vedere proprio in questo momento a schermo. Personalmente vado a scegliere il percorso che vede come ricompensa il mercato e queste qua sono tutte quante le ricompense che potremo ottenere una volta portato a termine il viaggio. Purtroppo per completare il viaggio dovremo acquistare una carta di fornimenti al costo di 30 dollari ed inoltre dovremo giornalmente portare a termine delle missioni. Così facendo però avremo a disposizione alla fine del percorso il nostro bellissimo leggendario. Il video termina qui, vi auguro un buon ferragosto e ci rivediamo in un prossimo video.